Grazie Presidente. Intervengo sul mio ordine del giorno, il numero 57, per chiedere al Governo di rivedere il parere. Perché quest'ordine del giorno non può essere accettato con una semplice raccomandazione. A giorni inizia una fase importantissima per l'Italia, la fase 2. Tantissimi genitori si chiedono in questo momento che devono ritornare a lavorare, a chi lasciare i propri figli. E soprattutto le famiglie che hanno bambini piccoli, ancora non autosufficienti, perché le scuole continuano ad essere chiuse, gli asili chiusi. E purtroppo si prevede anche che i centri estivi non riaprono. I nonni queste grandi risorse per tutte queste famiglie non possono, e sappiamo benissimo, aiutarli, perché sappiamo tutti che sono i più esposti al rischio del contagio. E allora queste famiglie, Vice Ministro, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire solo una raccomandazione o dobbiamo dare delle risposte serie? Vice Ministro, non si può pensare di far ripartire un Paese se non si danno risposte serie alle famiglie. Queste famiglie non possono essere abbandonate. Ecco perché noi di Fratelli d'Italia, con questo ordine del giorno, avevamo dato delle risposte serie. L'estensione del congetto parentale a tutte quelle famiglie che hanno dei bambini ancora non autosufficienti, fino all'apertura delle scuole, con un'indennità all'80%. Oppure l'estensione di quello che è il bonus per le babysitter, che sappiamo che in questo momento la grande difficoltà, non solo di trovarne qualcuna, ma anche i prezzi esorbitanti che chiedono, fino a 1.000 euro. Ecco perché chiedo al Governo di, in questo momento, dare risposte serie e non una semplice raccomandazione. Grazie.